14 persone sono finite in manette in una vasta operazione denominata Cileale. Gli arrestati sono indagati per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti contro il patrimonio, tra cui furti in esercizi commerciali in abitazioni. L'operazione trae origine da un'attività svolta dal Nucleo Investigativo di Roma su un gruppo di romani dediti a varie attività delinquenziali nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati contro il patrimonio alla persona, i quali risultarono in contatto con alcuni personaggi di Reggio Calabria, con cui pianificavano furti di ingente valore da attuare nel capoluogo calabrese. Il gruppo di romani era solito spostarsi infatti in Calabria per il tempo strettamente necessario a compiere il colpo preparato dai soci locali e poi facevano rientro nella capitale con parte del bottino. A Reggio Calabria tra gli obiettivi era stato scelto anche il Teatro Cilea, dove nella notte del 9 novembre 2011 i carabinieri di Reggio Calabria sventarono un furto arrestando in flagranza di reato cinque componenti della banda. Nel corso delle indagini è stata individuata anche una donna georgiana domiciliata in Reggio Calabria ed impiegata come badante che fungeva da ricettatrice per conto della banda. Le indagini su quest'ultima hanno consentito di rinvenire parte della reflutiva proveniente dai vari colpi messi a segno in abitazioni private. A Roma invece il tramite era un gioielliere che fungeva da ricettatore di oro e metalli preziosi, proventi di furto e presso il quale confluiva l'area furtiva. Proprio seguendo questi ultimi due si riusciva a ricostruire le dinamiche organizzative del gruppo. Proprio seguendo questi ultimi due si riusciva a ricostruire le dinamiche organizzative del gruppo. Proprio seguendo questi ultimi due si riusciva a ricostruire le dinamiche organizzative del gruppo. Proprio seguendo questi ultimi due si riusciva a ricostruire le dinamiche organizzative del gruppo.